Semifinale, no cap, Sampdoria contro Galacticos. Siamo quasi a termine del primo tempo, Ciro mi puoi dire anche il punteggio? 2-0 per la Sampdoria, ha un bonito cavallo. Beh, una partita molto delicata, ricordiamo semifinale, chi vince va in finale. Riprendiamo dalla rimessa laterale dei Galacticos, dove il fantasista si incazza un poco, un po' nervoso. Sì, alle semifinali c'è sempre un po' di nervosismo, partita importantissima, chi vince passa, chi perde va a casa. Vediamo un poco questa, questo calcio di punizione del Galacticos. Ci pensa il giocatore con la maglia Liverpool, ma penso che sia un calcio d'angolo. Signori, per favore potete fare più dietro, ci sono anche le telecamere adesso. Ci sono le telecamere, per favore un po' più indietro. Che ne pensate di queste due semifinali, di questa semifinale che stiamo in questo momento guardando? Chi va in finale, per favore 2-0, Sampo Toria contro Galacticos. Non lo so, non treva di bene, non lo so. Bella questa, ecco, questo è il Diego. Guarda il secondo, ma grande gol! 2-1, accorcia le distanze del Galacticos. Fa bene che si ha abbracciato Andrea. Un saluto da l'inviato speciale Max e ciao a chi è esposto. Ciao a chi è un'unica. Ciao a chi è un'unica. Ciao. Ciao a chi è un'unica. Ciao a chi è un'unica. Grazie a tutti.